Se c'è una cosa che ho imparato facendo questo mestiere è di non fare mai previsioni. Ho girato cose che sapevano di sfiga allontano meglio e che poi invece si sono rivelate un successo. E viceversa. Ho capito molto rapidamente che il pubblico è una variabile incontrollata e che tutto ciò che succede al di là dello schermo è imprevedibile, del tutto privo di regole. È l'incipit del manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista, Sapido Vadmecum per orientarsi nel mondo della fiction italiana, scritto dall'attore mesinese Nini Bruschetta. Il libro è stato presentato dall'autore stesso sabato 9 aprile presso la libreria Doviglio di Caltagirone, davanti a un pubblico divertito e partecipe. L'incontro è il quarto appuntamento della rassegna scrittori strettamente sorvegliati promossa dalla libreria Doviglio. Teatro, cinema, fiction. Qual è il fil rouge che lega questi tre ambiti o è una matassa? La rappresentazione è la stessa cosa in tutte le tre discipline, il piacere di rappresentare, di raccontare storie. Tu hai parlato della debolezza a volte delle sceneggiature nelle fiction italiane, c'è un gap per esempio con le fiction americane? Sì, relativo, ma c'è, diciamo in certa televisione generalista italiana è più debole, quella invece che viaggia su altre piattaforme è più o meno allo stesso livello di quella americana. L'attore non protagonista è la metafora di una regola di vita per riuscire a, non sfondare, a fondare la prima vita? No, più che una regola è una condizione, una condizione in cui secondo me, diciamo quello che poi io racconto nel libro è che bisogna sapere stare. E poi, diciamo, un po' sottilmente dico che siamo tutti non protagonisti e quindi è meglio cercare di adattarsi a essere non protagonisti che aspirare magari inutilmente a essere protagonisti. Ma per un attore la vanità è un vizio da eliminare o una per tu? Allora, la vanità è un vizio da eliminare anche per gli uomini, però purtroppo è impossibile, lo dico da uomo debole, ovviamente noi siamo sempre lusingati dalla vanità e alcune volte anche, diciamo, mossi in mulattiere che non dovremmo intraprendere. Però nell'attore invece la vanità è vietata, l'attore vanitoso è già morto, non sarà mai un attore, questa è una mia opinione personale. La Sicilia come viene rappresentata di solito nel cinema? Troppo più bella di quello che è e troppo più disgraziata di quello che è. Secondo me dovrebbe essere rappresentata nel modo in cui noi siciliani non sappiamo apprezzare la bellezza del posto in cui viviamo. Scegliere fra teatro, cinema e fiction? No, non scegliere perché ogni cosa mi diverte in un modo diverso. Il teatro mi appaga totalmente perché il teatro è come il sacerdozio, quindi quando entri in teatro è come se entri in un tempio, quindi è bellissimo. Il cinema appaga molto perché il risultato finale è straordinario, è magico, è la fabbrica dei sogni, si diceva all'inizio, gli albori di Hollywood. E la televisione è divertente, è redditizia perché si lavora di più ed è anche più divertente da fare perché in televisione si recita di più che al cinema. In televisione si fanno 7-8 scene al giorno e quindi per l'attore è più divertente. Qual è lo stato di salute dello spettacolo in Italia? Credo che abbia lo stesso febbre del paese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.